Pierluigi Iervese, si è chiusa la stagione della primavera del Pescara, che stagione è stata questa nella massima competizione? Ma è sicuramente non facile, sapevamo che non era un campionato facile da fare, però devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi. A prescindere dalla classifica, siamo riusciti a rimanere sempre ad avere la nostra identità di gioco e cercare di mettere in evidenza i nostri ragazzi. Come ho detto prima, sapevamo che non era facile, però perché confrontarsi con realtà importanti come Juve, Inter, Milan, sono squadre che hanno investimenti diversi dai nostri. Però devo dire che hanno fatto un'ottima figura, ogni partita l'hanno giocata sempre con l'obiettivo di provare a vincere e ottenere un risultato importante. E devo dire che alla fine l'annata è positiva perché consideriamo pure che siamo riusciti a portare in prima squadra diversi ragazzi e quello deve essere l'obiettivo principale per il settore giovanile. Quindi quello è l'obiettivo, lo abbiamo fatto. Sono contento pure per Marco Delemona che è l'ultimo che è salito in prima squadra e quindi di conseguenza devo dire che non possiamo che essere contenti perché negli ultimi due anni i vari Veroli, Sorrentino, Chiarella, Blanuta, Marco Delemona che sono riusciti ad arrivare in prima squadra in pianta stabile. La domanda allora è questa, c'è qualche nuovo ragazzo già pronto, oltre a quelli che hai citato e che già sono in pianta stabile nel giro della prima squadra, pronto ad essere utile per il prossimo campionato di Serie C? Ma io penso che qualcuno ancora possa avere questa chance. Possiamo fare qualche nome, senza voler far torto a nessuno ovviamente. Ma noi abbiamo il 2005 molto bravi, abbiamo Postiglione che secondo me potrebbe essere un ragazzo che non dico subito ma a inizio stagione avere la possibilità di poter salire in prima squadra, poi ci sono anche altri due ragazzi che secondo me hanno fatto un discreto campionato che sono un ragazzo Meic, Amer, che era un centrocampista e qualche altro 2005 che deve ancora maturare ma che secondo me l'anno prossimo qualche chance potrebbero avere. Luigi, tempo di bilanci, lo hai detto proprio all'inizio di questa intervista, nonostante tutto è stato un anno positivo per la primavera del Pescara. Si guarda il futuro, il futuro di Pierluigi Iervese, dove sarà il prossimo anno? No, non lo so questo, devo ancora parlare col Presidente ma ecco quello che è importante e soprattutto quello che è stato fatto per Enzo adesso è il terzo anno che sono qui al Pescara in primavera e posso non essere che contento del lavoro che è stato fatto in primavera naturalmente grazie al mio staff, a tutti i miei collaboratori perché come ho detto anche prima l'obiettivo principale è quello di preparare i ragazzi per la prima squadra. vediamo quello che succede e poi ne parleremo col Presidente e vedremo.